Un'azione molto positiva da parte del Ministro Zangrillo per quanto riguarda le farmacie che rientrano nell'azione a favore di una sanità di prossimità. Che cosa serve a sanità di prossimità è impedire che si ingolfino gli ospedali e che le cure di pronto intervento, le cure per problemi non gravi possono essere effettuate anche sul territorio e questo mi sembra che sia una delle cose giuste da fare. Poi bisogna lavorare molto sulla prevenzione, bisogna poi fare un nuovo piano sanitario, una riforma e l'incontro che organizza Forza Italia oggi va in quella direzione. È una direzione che abbiamo invoccato anche a livello europeo, con il Partito Popolare europeo. La questione della salute per noi rappresenta una priorità e lo rappresenterà anche in questa campagna elettorale perché dovremmo accendere i riflettori su un tema che riguarda la vita di ogni cittadino italiano e di un cittadino europeo. Il diritto alla salute, anche la salute mentale, dobbiamo non sottovalutare questo aspetto che è di grande importanza. Ripeto, lavorare sulla prevenzione molto.